Questo programma è offerto da Gioielleria Verde Oro Bar Essenzia Solo Donna, vai solito moda Buongiorno, oggi è sabato Noi come al solito siamo qui Come al solito Noi prendiamo il caffè più di una volta Sono un po' schizzata No, 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 vabbè, ottimo Cominciamo, dai, cominciamo Vai, vai, vai Oggi sabato 18 giugno Questeggiamo Santa Marina Per nome, auguri, auguri, auguri Allora Marina, Marina, stringiamo Il tuo giorno fortunato è il lunedì L'hai segnato? Aspetta lunedì, oggi è sabato, mancano due giorni Dopodomani E come non poteva essere Il tuo simbolo fortunato è l'acqua marina Marina, acqua marina Acqua marina Questa è la battuta di brutto proprio Ma è un numero fortunato Il tuo numero 7 Sette Numero 7 Vai, vai, vai Quindi lunedì acqua marina Numero 7 Auguro con marina Con marina Non c'è mai no Ci sarà, ma ora se parliamo a marina Con marina Auguri Aguri Oggi il tempo Io ho già il costume addosso Sabato 18 Me ne vado al mare Perché il tempo è bello Poco nuvoloso Vento moderato Temperatura è 28 gradi Sì, bravo, bravo Quindi andiamo Ti sei preso già il salvaggianito? Sì, devo uscire le robe dalla lavatrice però Eh, oggi è sabato Ah, non si escono Sì, sabato e domenica non li escono Sì, vabbè, vabbè Vabbè Spannite voi Spannite 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 No, poi mi sono accorto in effetti che lì tu, con la famiglia, con gli amici, quando andavate a mare Ma che stavo? Come stavo? Stavo bene? Stavi bene, eri felicissima, logicamente, come ogni volta che vai a mare, no? Cioè, mi sembra, no, 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 no Andavo a mare non in costume Sì, però poi, dato che andavamo dalla stessa spiaggia, poi ho visto che siete arrivati tutti a mare e ti sei stesa al sole A prendere il sole come fai tu sempre, ore e ore stesa al sole A mo' di lucero Esatto Solo che poi mi sono reso pronto che effettivamente Sì, sì, devi dire Io prendevi il sole e che ho andato a bianca E che ho andato a bianca Ma mi è venuto a cucinare, che è venuto vicino a chi mi ha detto Ma è l'olio, si vuole Io non rido, per me fosse stato un incubo Pure per me è stato un incubo questa notte Va bene, ma dame le numeri a Cristiana Vedi che li ho segnati da qualche parte Puoi segnare qualcun'altra? Allora, andare a mare 69 Poi, logicamente, stendersi al sole perché ci sono tante interpretazioni Stendersi al sole 59 E poi impallidire 31 69, 59, 31 Shukat Io vado perché riguarda me Sì, sì, si Shukat Shukat Quindi ogni settimana praticamente ci sono cose nuove E non posso mancare C'è un po' la cartonita la settimana Ogni settimana tutto nuovo, tutto si rinnova Tutto è fashion, tutto è cool Ma Prendiamo il caffè, prendiamo Per culo Questo programma è offerto da Gioielleria Verde Oro Bar Essenzia Solo donna, vai solito moda Sì, sì, sì Verde Oro Un negozio studiato per aiutare a scegliere l'oggetto più comunicativo del proprio modo di essere Quello che più piace E non solo quello più lurevole o con il prezzo più conveniente I gioielli parlano, esprimono ciò che vogliamo far conoscere di noi stessi Rappresentano il nostro stile di vita La nostra individualità Gran parte dei nostri gioielli sono presentati in modo chiaro e trasparente Con i prezzi visibili già scontati per un rapporto chiaro con la nostra clientela Nel nostro assortimento Compaiono le firme più prestigiose e all'avanguardia per darvi ampia possibilità di scelta Verde Oro Gioielli e idee Grazie a tutti Grazie a tutti